Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. L'edizione del Roma Europa Festival, che offre spettacoli teatrali, esibizioni circensi e tanti eventi musicali. Infine, in corso ai Musei Capitolini, la spina dall'Agro Vaticano a Via della Conciliazione. Una mostra sull'imponente intervento urbanistico di demolizione della spina di Borgo e di costruzione di Via della Conciliazione.